La turta dell'anniversario e il caffè dell'anniversario, no, per vera sincera, in vingadum a questi ho che mangiabili, ma questi sono stati la conclusione del ventinovesimo. A me e a me, a me, a me, a me, a me, a me, a torta e caffè, a torta e caffè, a tanti ugrini, a me e a te. Ciao a tutti.